oroscopo di venerdì 6 novembre si festeggia san leonardo ariete è altamente probabile che presi come siete su tutt'altri fronti finite con il trascurare il settore del lavoro con esiti però poco favorevoli toro giornata dal ritmo vivace messaggera anche di inviti a sorpresa organizzate magari una cenetta con il vostro partner e aggiornatevi sulle novità gemelli nel timore di offendere una persona che vi fa un po la posta rischiate di imbarcarvi in una relazione che non vi interessa quindi siate molto chiari con voi stessi cancro muovetevi con cautela affrontate eventuali questioni delicate con calma e attenzione non c'è proprio altro modo per evitare pericolose scivolate leone forse ultimamente avete dato poco spazio al dialogo o forse semplicemente che con i vostri familiari c'è divergenza di idee e di opinioni meditate su questo vergine se un collega che vivete in difficoltà si offre per darvi magari una mano accettatela scoprirete che si può lavorare bene anche in gruppo bilancia in fatto di sentimenti la vostra andatura è un po discontinua ma non potete continuare a volare di fiore in fiore all'infinito quindi pensateci bene scorpione sforzatevi di non ingigantire troppo le vostre imprese eccedendo nell'incensare quelle che sono le vostre doti rischiate di risultare un po antipatici sagittario nella vita a due continuate ad essere poco tolleranti perciò ogni singola mossa nel partner vi dà un po i nervi non potete continuare così dovete chiarirvi e passiamo al capricorno forse vi tocca rimandare un appuntamento al quale tenevate molto ma se sono rose appunto fioriranno perciò non state lì a lamentarvi amici dell'acquario le opportunità favorevoli sono molte vi manca però quella prontezza quell'intuito per trarne il beneficio perciò niente passi azzardati arriviamo ai pesci anche se vi sembra che la relazione non sia magari all'altezza dei vostri sogni non fate mosse avventate domani potreste già pentirvene azzardati